Ragazzi comunque un pochino lo sto Ragazzi ovviamente un pochino lo sto continuando E si Questo è continuo perchè il video non era finito Perchè non è che c'è tanto spazio sul cellulare E vabbè Quindi questo è il risultato del sole Si molto bello Inviamo E non so perchè ho fatto un sole arancione Ma l'ho voluto fare Si perchè si E insomma Perchè si Comunque si Probabilmente Uscirà prima questo video in anteprima Comunque questo qua lo scoprirete perchè Perchè lo Perchè come vedete ho vinto E questo lo scoprirete nel video completo Ma nel frattempo Vediamo un po' questa clip Vediamo Ok manca poco Tema caldo Ovviamente ho fatto il sole Ovviamente E ora votiamo perchè questo E' l'ultimo Quattro stelle vai Quattro stelle Ovviamente questa è una clip Eccetera Cioè comunque Questo Pochi stelle Quattro stelle Questo ovviamente un pochino mi lagga Perchè è E' un ipad un po' vecchiotto Sì sto giocando da un ipad Però è mio Però C'è E questo Tre stelle Diciamo che anche io volevo fare un omino Però è Cat Questo è 5 stelle Però Caldo E' un gatto Probabilmente quello che l'ha fatto A mai gatti Vediamo un po' E dai Questo è il mio Dai almeno 5 stelle Dai Come il pollo Dai vi prego Dai Eeeh Dai Dai Eeeh Non So Capace Non so se questo Quello che Non so se quello che l'ha fatto è italiano Oppure è straniero Non lo so You Oh che bello 5 stelle Perché Ha messo il cuoricino Dai Deh Ovviamente Non Deh E no What but you like Eeeh Cos'è Ed è E' un bagno Ah Due stelle Un pochino Due stelle Purtroppo Mi dispiace Vincitori sono Oh Molto bene Comunque Il video completo Eh Lo vedrete dal canale Comunque Prima Sono al settimo posto Peccato Andate subito a vedere sul canale Questa E' un pochino la parte 2 Clip bonus Eh